Signore e signori benvenuti, tengo a precisare che la Metro Goldberg in collaborazione con la Cento Venturi Fox, associata alla Paramauto e all'Adino dell'Aurentesi, casa cinematografica con stabilimenti di lavoro a Pomezi e Tali, SPA, società per azioni, ha l'alto onore di presentare alla sua affezionatissima clientela il colosso dei supercolossi che mai la cinematografia italiana, direi mondiali, abbia potuto rappresentare. Alla realizzazione del film hanno partecipato 88 attori di fama mondiale che prossimamente, in ordine alfabetico, vedrete su questo schermo. Il film è dal titolo Lo sbarco in Normandia e sapete perché gli angloamericani sono sbarcati in Normandia? Perché non sono potuti sbarcare a Pinzo Calabro e quindi abbiamo lo sbarco in Normandia e così sia.